Oh, finalmente è arrivata sta benedetta, sta benedetta, ufficialità per Caio, Giorgi, colpo inaspettato della Juve, perché in realtà la tavola sembrava parecchiata a zona Milano, invece no, la Juve si è intrufolata, ha fatto la trattativa, è riuscita con, è stata tribolata anche questa, perché poi è uscita una notizia data da Sky, che insomma ha fatto infuriare il mondo juventino, ha dato, cioè è stato un po' delle perplessità anche a me, dicevano no, i ragazzi in realtà avevano un 3 più 2, che per regolamento FIFA è una cosa straviettata, ma in Brasile bisogna andare cauti, perché insomma sono dei cialtroni dal punto di vista del tesseramento, eccetera, perché terze parti, altre cose, regolamenti un po' strani, cercano di monetizzare quanto più possibile, alla fine il ragazzo è arrivato in Italia, ha fatto le visite mediche, quarantena, tempi burocratici per, insomma, visti altre cose, adesso Caio Giorgi è un giocatore a tutti gli effetti della Juventus e ce lo teniamo ben stretto, però la verità è che all'inizio dicevano, ah ragazzi stiamo prendendo Caio Giorgi, voi la prima domanda che facevate è la seguente, che cazzo è Caio Giorgi? È come darvi torto, per questo ho qui il piacere di avere ospite, di avere ospite alla Luca Giurato, ciao Emi, bentornato. Ciao Antonello, ciao ai tuoi ragazzi, come sempre il saluto a te, allora è doveroso, grande community, vi faccio i complimenti, su Caio mi innervosisco, ve lo anticipo, vedi anche, mi si blocca anche la gola, perché c'è stata una disinformazione? Dai dai, fra un po' parliamo del nuovo, del nuovo Neymar, tranquillo, allora, sto già dove stavo andando a parare, sarà la prima cosa che andremo a togliere dalla testa di ragazzi, dobbiamo assolutamente levare questo stereotipo per Caio Giorgi, innanzitutto, ragazzi io vi invito ovviamente a iscrivervi ai nostri canali, trovate il tag di Emilio, ma il buon Emilio, oltre che fare video di tattica, che va a studiare le schede dei giocatori, fa le schede scout dei giocatori, vi dice in cosa è bravo, in cosa è meno bravo, eccetera, dopo tutto sto lavorone, fa anche dei corsi per diventare o scout, quindi osservatore internazionale, o match analyst, trovate tutti i riferimenti su www.emiscouting.com, io vi consiglierei di andare a dare un'occhiata, poi, ripeto, è come il vino, iniziate da, non dal tavernello, da un vino normale, se poi dovete andare sui baroli, ecco, il barolo è il corso di Emilio, mi dicono sempre tu sei un avvinazzato di merda, colpo stai sempre, è come darmi torto, allora, ho aggiunto altri vini alla mia collezione, ecco, quindi giusto per qualche barolino, giusto per, giusto per, allora, Emi, dobbiamo parlare di Caio, Sì, allora, Caio è intanto un ragazzo giovanissimo, talento molto interessante, con delle caratteristiche particolari, è un attaccante atipico, lo possiamo dire, sì, ha delle, allora, lo paragonano a Neymar, perché c'ha questa capigliatura un po' stravagante, e il colore, insomma, somiglia, no, a livello fisico, eccetera, Neymar, però, tutto di vista del gioco, è come pirlo tonali, Eh, la stessa cosa, uno, un gattusino, un po' più con i piedi educati, cioè, tonali, un po' più di interdizione, un po' più, che devo dire? Questione, questione capigliatura, in Italia si lavora così, a livello giornalistico, il 99%, perché poi arriva Romeo Agresti, e dice, Emilio, no, perché in Italia, no, no, Romeo è bravo, per carità, però, a livello di capigliatura, spesso, i paragoni sono questi, capelli uguali, i giocatori sono uguali in tutto, no, No, Caio Giorgio è proprio un'altra ruota, allora, per ruolo non può essere il nuovo Neymar, centravanti, esterno d'attacco, via, per caratteristiche tecniche non può essere il nuovo Neymar, appunto, tecnicamente Neymar è una roba, dribbling, conduzione, superiorità numerica, Caio Giorgio, no, tecnicamente, sicuramente, se il fatto suo è più forte di me, da quel punto di vista, non ci piove, però è diverso da Neymar, l'uomo lo salta, sì, ma, uno, in Brasile, con le praterie, con i difensori brasiliani, due, spesso e volentieri, non sono dribbling che vanno a creare una reale condizione di vantaggio, sono dribbling da centravanti, perché le punte centrali che effettivamente dribblano con efficienza, sono poche, non è che è un punto a sfavore, Quindi non è Neymar, qui lo voglio dire chiaramente Allora, esatto, per aiutare gli amici, tu hai smentito, non è Neymar, ok, dovessimo fare un parallelo a un prototipo di attaccante simile a Caio Giorgi, simile, non dico, proprio per dare un'idea di massima, in modo che uno possa collocare Caio Giorgi mentalmente ad una realtà che già conosce, ad un giocatore che già conosce Allora, questo è un nome che non ho fatto io, ma è stato fatto nei commenti, nei miei video, su Twitch, insomma, da diverse parti, Firmino, io non ci avevo pensato a Firmino, però si avvicina, non sono uguali, anche qui lo voglio dire chiaramente, però volendo Firmino è un tipo di giocatore che si avvicina al buon Caio Giorgi Qualcuno dice anche Lautaro, per esempio, spesso nei commenti, è differente? Perché, no, no, per certi aspetti del suo gioco, sì, si assomiglia, è meno veloce di Lautaro, Lautaro, magari viene più incontro, però per altri versi è simile, perché no? Ok, allora, la Juve ha come parco attaccanti diversi giocatori, lascio stare ovviamente Chiesecoluseschi, che sono nel mezzo tra l'essere attaccanti e in realtà ed essere centrocampisti esterni Tolti loro abbiamo Ronaldo, Di Bala e Morata, tre giocatori con caratteristiche diverse, io credo che a questi tre si aggiunga un altro giocatore con altre caratteristiche diverse che è Caio Giorgi Io ti dico, nella Juve di Allegri, in che posizione gioca? Soprattutto guardando i primi 4-3-3-4-4-4-2 che abbiamo notato, insomma, in questo precampionato atteniamoci a quel che il campo ci ha detto finora, poi ripeto, Allegri è bravo anche a cambiare, a trovare delle soluzioni tattiche che riescano, insomma, a mettere in campo tutto il potenziale migliore, tecnico e ovviamente anche tattico Secondo me, come dici tu, è una scelta tattica diversa, è un'opzione in più, però nel tridente va lì al centro Secondo me è anche difficile da sfruttare sulla fascia perché a livello di dribbling, ripeto, è un giocatore bravo per carità però bravo per carità in Brasile e in Italia diventa ancora più dura non può essere uno sbocco attraverso un lancio lungo per quanto riguarda appunto sbloccare la manovra non è Mandzukic, no? Ti ricordi Mandzukic lì alto a destra, palla a lui e ripartiamo da lì perché nel gioco aereo qualcuno può dire ha fatto un gol di testa no, guardando le partite, non gli highlights, si vede che di testa a volte soffre ma in sofferenza sì, 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 è un gesto tecnico proprio che a volte gli viene male tempismo sbagliato, lo stacco è sbagliato poi magari a volte sicuramente gli riesce però non mi affiderei a lui sul gioco aereo può migliorare, questo lo devo specificare perché è un giocatore giovane, magari tra sei mesi anche parliamo di un giocatore molto più forte rispetto ad ora però per tornare alla domanda beh, ci lavori ma non diventerà mai un fenomeno non è quella cosa che è nelle tue corde cioè magari diventi anche molto bravo però fenomenale, no no, 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 da quel punto di vista no però ripeto, per concludere, punta centrale qualcuno ha detto, io ho detto che aveva una struttura fisica particolare perché non era eccessivamente alto però era abbastanza, cioè uno che i colpi li sa reggere nel campionato italiano credi che tu cioè tu credi che insomma quei difensori che abbiamo abbia delle difficoltà dal punto di vista fisico? secondo me inizialmente sì io leggo qui, ho la sua scheda, è un classe 2002 ci sono difensori in Italia esperti, forti insomma anche cinque anni in più si notano e 1,82 pesa 70 kg circa 70 kg come hai detto tu però belli importanti da quel punto di vista io sono sicuro che tra due o tre anni lì sì se la giocherà fisicamente attualmente un po' di difficoltà la può avere quindi ci sarà anche tanto lavoro sul fisico da fare sarà importante quello eh perché un giocatore come lui che gioca spesso spalle alla porta la palla la deve difendere il fisico sarà importante come diceva il mio mister gli alettoni li devi allargare bene ti prendi un attaccante io il Manolas per esempio uno a caso ti mangia da quel punto di vista eh vi faccio anche un altro esempio che io sapevo che è una delle mosse che fanno gli attaccanti quelli che sono un po' grossi fisicamente oltre che gli alettoni come ha detto il buon Emilio sbattono il culo all'indietro fanno questo movimento boom e poi si creano lo spazietto sono delle mosse di furbizia e di scaltrezza che questo ragazzo probabilmente inizierà ad utilizzare una volta che si age i primi calcioni sicuramente allora invece per quanto riguarda sì spalle alla porta in finalizzazione qual è la sua arma migliore allora abbiamo detto non è forte di testa gioca spalle alla porta a questo punto mi viene da pensare è un attaccante fulcro del gioco che andrà a sfruttare gli inserimenti degli esterni quindi farà anche un po' il rifinitore eccetera oppure anche un giocatore che sa finalizzare e potrebbe arrivare facilmente in doppia cifra perché questa è una domanda che si fanno tanto i ragazzi perché vedendolo su YouTube non sono rimasti poi estasiati dal giocatore allora io la doppia cifra sai perché la vedo possibile ovviamente con un numero di partite giocate adatto all'altezza perché è un giocatore che è vero che gioca spalle alla porta ma non sempre ha anche questo stile di gioco però a me per alcuni tratti avendolo visto in partita cioè guardare un giocatore in partita vuol dire che la palla c'erano i difensori però tu guardi lui vedi quello che fa è un giocatore da un certo punto di vista all'Ainzaghi tatticamente mi piace lo vedo furbo scaltro intelligente nel capire l'azione offensiva qui diversi gol li assegnati sul rimpallo cioè tiro del compagno di squadra rimpallo però ci arriva lui su quella palla non è una cosa banale quindi da quel punto una volta è casualità due, tre, quattro, cinque diventa non essere più un caso ecco esattamente scaltro finalizzatore di buon livello secondo me giocando trenta partite da titolare ipotesi cosa che non accadrà nell'immediato la doppia cifra io la vedo molto possibile chiaro chiaro bene io direi quindi secondo me sarà un rincalzo intanto di questa stagione eccetera ma secondo te grossi margini di crescita tali da poter considerare questo ragazzo un effettivo crack perché aveva la nomea del classico brasiliano che poteva esplodere un po' alla Gabigol ma direi anche un po' all'Animar per nomea non per caratteristiche io da io lavorando in Serie A ormai da da quattro anni avendone viste di ogni io sui brasiliani mi astengo sempre forse per lavoro no un voto lo devo dare perché è il mio lavoro mi pagano però su lui mi astengo anzi dai mi espongo dico che secondo me può essere un giocatore interessante crack no attualmente non perché ci sono troppi fattori in ballo il primo l'ambientamento che è sempre importante per i sudamericani poi deve migliorare sì tecnicamente sì tatticamente una base di partenza buona però c'è quindi cautottimismo ok ok dicono che sia però un po' più europeo come calciatore del solito meno fumantino rispetto ai brasiliani quanto è vera questa formazione e quanta concretezza c'è in questo ragazzo è un ragazzo concreto anche perché ripeto il dribbling non è la sua caratteristica principale cioè spesso non ci prova neanche quindi ci prova meno volte quindi l'effettività sale da quel punto di vista meno fumantino meno fumoso rispetto ad altri ad altri colleghi quello sì però l'ho visto anche condurre bene palla nel senso che nello strappo per esempio visto e considerato la Juventus di Allegri che giocherà tanto in contropiede è uno che nella conduzione della palla è abbastanza rapido che sa portarla questo è in Brasile va visto qui però parlando del fondamentale tecnico sì anche il dribbling nello stretto anche con tagli netti nella traiettoria della conduzione sì ci sa fare però è diverso guarda io ti dico quando gioco a calcetto io e dribblo lo faccio perché sono di corsa sparato e c'è il difensore che si piazza in mezzo altrimenti se partiamo entrambi da fermo io faccio partito quello sì però qualche difensore mandato a vuoto l'ho visto ok 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 buono buono saperci perché io ripeto i giocatori che dribblano in corsa mi piacciono ma fino a un certo punto a me piace più vedere il dribbling già sullo stretto quando ci sono pochi spazi e capire dove passano ecco la è molto più interessante la deve lavorare deve lavorare da quel punto di vista chiaro ragazzi io che dire questo è tutto cioè poi lo vedremo all'opera è un ragazzo di buone speranze non esaltiamoci non è Neymar ma è più un firmino barra Lautaro un giocatorino così insomma un giocatore è un attaccante abbastanza moderno vedremo come Allegri insomma sarà bravo a valorizzarlo la cosa interessante che ha detto Allegri è la seguente il buon Caio Giorgi per migliorare dovrà sbagliare e dovrà sbagliare anche tanto giusto questa è una frase da allenatore navigato che diremo io ti ringrazio grazie di cuore il ringraziamento va a te ovviamente alla tua community ripeto sempre un piacere passare da queste parti ragazzi trovate ovviamente i riferimenti di Emilio nel suo canale comunque oltre al tag che trovate cliccateci su andate sul suo canale iscrivetevi www.emiscouting.com se volete diventare degli osservatori che scopriranno i prossimi Caio Giorgi e tutti gli altri giocatori mi piace è un buon modo poi se volete diventare degli hipster che venite poi sul mio canale oh colpo parlaci di caldo e io rimango che cazzo ecco mi aiuterete voi ecco eventualmente oltre i video mi scalderanno esatto esatto no 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 non ti scalzano tu sei pietra miliare anche di questo canale dal punto di vista tattico perché è giusto delegare la non conoscenza a chi conosce è sempre pensata così ragazzi questo è tutto io ripeto ringrazio Emilio trovate i suoi riferimenti sotto un abbraccio e sempre fino alla fine forza Juve ragazzi grazie a tutti